Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Pequod. Oggi torna una rubrica di cui non parlavo da un po' di tempo, ovvero Cover Art Comics. Siamo all'episodio numero 7 e oggi non parleremo di un albo, ma di una copertina che non è mai andata in porto, ma che poteva essere molto bella e... vediamola insieme, vediamola insieme. Cover Art Comics, per chi non lo sapesse, per chi non la conoscesse, è una playlist che io dedico alle copertine più belle e più brutte degli albi o dei fumetti che incontro. Siamo arrivati al numero 7, quest'oggi parliamo di Dylan Dog, di un albo che non è mai andato in porto, appunto come dicevo prima. Perché? Perché Angelo Stano, in un suo post, che vi faccio anche vedere, pubblica queste copertine qualche tempo fa e io ne rimasi molto incuriosito perché, appunto, non erano parte di un albo uscito in edicola, ma potevano esserlo perché erano in programma per Angelo Stano. Angelo Stano, sapete, uno dei più grandi copertinisti, il primo a disegnare Dylan Dog, a dare la sua forma in quel numero 1, l'alba dei morti viventi, e che in questo post pubblica, appunto, delle copertine e delle bozze, che ora vediamo insieme, e che non sono mai andate in porto. L'effetto, quello optical, è che si ispiravano a questo film, ovvero Vertigo, un film di Alfred Hitchcock del 1958, molto bello, che vi consiglio di vedere se non l'avete fatto, perché è molto intrigante, e Angelo Stano si ispira a questo poster del film per trarne una ipotetica copertina di Landogiana. Ovviamente la cosa non andò in porto, come dice lui stesso, peccato, perché potevano essere qualcosa di interessante. Dylan Dog poi, ovviamente, negli anni sperimenterà su delle copertine, anche con il numero 387, la copertina lenticolare, di cui ci ho fatto anche un video, vi lascio la scheda se volete vederla, che è una copertina molto molto bella. Se vi piace l'effetto optical lenticolare, dovete recuperare quell'albo, perché è parte, appunto, integrante di quello che Stano stesso dice, ovvero, volevo sperimentare con qualcosa di diverso, Stano l'avrebbe fatto forse in bidimensionale, come le classiche copertine di Dylan. Questa del 387, invece, è proprio 3D, e la vediamo insieme, anzi, ve la faccio vedere subito. Questa del 387, appunto, è lenticolare. Guardate che carina. Cioè, non so se si nota, ma dovrebbe cambiare. Qui si nota poco. Però, andate a vedere il video che ho fatto, lo recuperate, ci sono le varie trasformazioni. Tant'è che la copertina qui è molto più spessa, molto più rigida. È carina. Questo era un albo speciale, edizione Luca Comics. Ma, tornando all'episodio Cover Art Comics, andiamo ad indagare, a vedere queste copertine ipotetiche che potevano essere sulla serie regolare di Dylan. Allora, questa era una prima bozza, il primo piano di Dylan, immerso in questo vortice optical, molto anni 70. E, infatti, vedete che anche il logo di Landog è in trasparenza. Forse perché, appunto, ci poteva giocare con questi effetti traslucidi, come spesso ora si fa con le copertine. Peccato che veramente non sia andata in porto questa idea di Angelo Stano. Questa è l'altra. Anche qui Dylan, che è come se cadesse in questo vortice, in questo flusso di cerchi optical. I colori qui mi fanno... non mi fanno impazzire, però va bene. Meglio questa versione di Dylan rispetto a questa. O forse doveva essere un gioco in cui Dylan cambiava posizione con un effetto lenticolare, fronte, retro. Anche è molto probabile che sia così. Perché immaginate la copertina anche lenticolare, come vi ho fatto vedere prima, con questi effetti, no, di cerchi, e si creerebbe un effetto 3D molto carino. E questa è molto iccocchiana, perché, come vi ho fatto vedere prima, si ispira al poster di Vertigo, il film di Hitchcock. Eccolo qua. Molto carina. Come sapete, Dylan gioca molto con il cinema, non solo perché il personaggio di Dylan Dogg è ispirato a Rupert Everett, un attore cinematografico, ma nelle sue avventure, nelle sue indagini, Dylan, anzi, nelle sue quotidianità, va spesso al cinema a vedere film. E c'è molto spesso un legame tra Dylan Dogg e il cinema, non solo per i film che va a vedere, ma anche per alcune battute, alcuni riferimenti, i poster che hai in casa, e via dicendo. C'è un mondo da esplorare su Dylan e il cinema che si potrebbe anche approfondire questa cosa, e penso che presto la farò. Bene, questa era una pillola di Dylan Dogg inedito, mai uscito, e che forse mai uscirà, però, chissà, magari, Angelo Stano ci ha dato questa pillola, perché forse in futuro potrebbe darsi che qualcosa uscirà. Chi lo sa. Questo era Cover Art Comics, episodio 07, andate a recuperare, se vi va, gli altri episodi, li trovate nella playlist apposita, vi lascio il link in descrizione, e nelle schede, perché ci sono degli albi in cui approfondisco, tra cui anche Dylan, molto interessanti. Fatemi sapere che ne pensate, così continuo con questa rubrica nel tempo, e anzi, se vi va, indicatemi delle copertine, belle o brutte, di cui posso approfondire degli aspetti, e ne parlerò volentieri. Ciao a tutti, al prossimo video di Laniato. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.